Mi chiamo Viola e il nome del mio personaggio è Mira è una ragazzina che fa le scuole medie e decide di diventare una Dark e quindi è in contatto con un mondo nuovo e il fumetto parla della contrapposizione tra il suo carattere che è molto solare, allegro e invece quello che lei vuole diventare, una Dark triste, riflessiva la prima idea mi è venuta in mente durante una vacanza proprio nel momento in cui la stavo approfondendo e nascevano le prime strisce finite ho incontrato voi di cantina l'idea di questa ragazzina che è in un paese che vuole essere qualcosa di diverso mi stimo un po' dalle sue cotanee che invece sono un po' tutte uguali e nasce, sì, da un'esperienza personale perché io non ho da in un piccolo paese di solito mi stupivo e faccio artiera anche un pubblico più migliore di solito io leggo fumetti francesi, in francese spesso perché non vengono tradotti in italiano e frumetti americani, strisce americane, calvinendo absurdi e tutti il fumetto italiano invece che poco per manga permette anche se invece di muscolanza manga c'è, anche se non li leggo la tavola nasce prima con degli abbozzi fatti a matita poi passo all'infrastrazione con pennarelli di vari spessori e poi la lavorazione passo al computer, quindi scansiono la tavola, la pulisco a photoshop e lavoro con i reticoli e la colorazione che nel caso di un vero di mira è soltanto puntamente rosa adesso sto lavorando alla prima tavola di mira dove lei capisce che vuole diventare una docca quindi non c'è la storia, non c'è la storia, non c'è la storia per realizzare una tavola dipende un po' dalla difficoltà se ci sono quando roba le parti veramente difficili oppure sono in cerca da si personaggi quindi è più semplice però di solito se sono per esempio spirata io sono anche pare di un po' aiuto grazie a tutti un saluto da viola, la disegnatrice di mira al domicilio di prima grazie a tutti